La 26esima giornata di Serie D ci regala il derby, tutto teramano tra Notaresco e Castelnuovo. È gara d'alta classifica quella tra i ragazzi di Epifani, quelle di Di Fabio, anche se quest'ultimo nei precedenti quattro turni ha portato a casa solo un punticino. Dall'altra parte Notaresco rinfrancato dai tre punti conquistati a Castelfidardo, vero e proprio tocca sana dopo la sconfitta patita contro il Campobasso. Come accade nei turni infrasettimanali, qualche cambio per i due mister rispetto alla domenica passata. Nei locali a quadro subito titolare a fare da metronomo, davanti Olcese con Dos Santos in panca, esordio per buona voglia. Negli ospiti Foglia e Verdesi out insieme all'infortunato Fagioli, con Di Ruocco, Emili ed Egidio come tridente offensivo. Fischia Diop di Treviglio. Le fasi di studio s'allungano, le conclusioni latitano. Il gioco, spesso spezzettato da falli e fischi esagerati, non decolla, ma al primo affondo del Notaresco il match cambia. Su una percussione di Palumbo, Diop vede il fallo di Morganti e decreta la massima punizione. Ad occhio nudo l'intervento non è poi così grave, ma rivediamo, grazie al montaggio di Mario Giacchetta, il rallenti dell'azione. Olcese va sul dischetto, mandando i suoi sull'1-0. È il trentacinquesimo. Il Notaresco insiste e lo fa quasi sempre a sinistra. Poco prima del fischio, da quella parte sfonda Palumbo. Il cross del 77 va sui piedi di Speranza che insecca il raddoppio da 0 metri. Il Castelnuovo prova subito a riaprire la gara, ma un super sciba compie un miracolo su San Severino, mandando in angolo. Squadre a riposo dopo un primo tempo assurdo. Prima mezz'ora che ci consegna un tacquino immacolato. Ultimi dieci minuti invece pieni di brio. Nella ripresa Di Fabio cambia. Out Basilico e Morganti dentro Cellucci e D'Ignazio. Ora Neroverdi col canonico 4-2-3-1. Nella prima mezz'ora potremmo tranquillamente copiare e incollare la cronaca di inizio gara. Infatti accade nulla o poco più. Si arriva al trentesimo, infatti, quando Emili prova il destro senza trovare lo specchio. Sciba può osservare tranquillo senza intervenire. Trentacinquesimo. Di Ruocco riceve da Emili. L'undici carica il destro. Sciba è battuto, ma l'incrocio dei pali nega al Castelnuovo ulteriori speranze. Anche perché sul ribaltamento di fronte Mancini trova l'angolino alla sinistra di Natale per il 3-0. Punteggio pesante per il Castelnuovo, tutto per il verso giusto in casa notaresco. Nei minuti finali il Castelnuovo cerca di dare un senso alla giornata, ma la difesa rosso-blu sventa tutte le offensive Neroverdi, proteggendo Sciba da ulteriori pericoli. Al quarantottesimo Diop manda le squadre definitivamente negli spogliatoi. Come detto, punteggio severo per gli ospiti. Notaresco bravo a capitalizzare tutto ciò che si poteva. Gara con dieci ammoniti, troppi per un match corretto come quello visto oggi.